ciao ragazzi benvenuti nel canale gameplays 1973 channel un saluto dal vostro amico salvo come sempre vi chiedo la cortesia di ascoltare interamente il video vi condividetelo e se volete lasciate un bel pollice all'insù per sostenere il canale ragazzi giorno 27 marzo 2018 ore 21 ci sarà una diretta speciale sul mio canale youtube per i 1350 iscritti quindi non mancate ne porteremo il gioco far cry 5 saremo un cop con il mio amico e saremo anche in parti con altri miei amici spero di poter mettere anche le loro voci così ci potremo divertire ascoltare tutti i miei amici e parlaremo del gioco voglio rispondere nuovamente alla domanda che mi avete fatto il motivo perché sto trasmettendo su twitch l'ho già pubblicata ieri anzi due giorni fa il motivo lo ripeto adesso su youtube mi sono scocciato di bannare bloccare rispondere insulti che dicevo che onestamente non vale la pena perché tu blocchi uno e subito si fa un altro account quindi mi sono scocciato pure nel fatto di bannarmi io di tanto in tanto pubblicherò le repliche dei giochi nuovi che porto sul canale per esempio partai 5 la speciale diretta live lo farò sia su youtube che poi lo proporrò su twitch perché sul twitch e le regole ora adesso le regole sono molto più stringenti se andate a controllare e questo mi fa onestamente molto piacere perché di quello che scrivi sul twitch te ne devi assumere la responsabilità piccolo grande che sei quindi questa è una cosa che io approvo moltissimo peccato che su youtube ancora questa cosa non ci sia ma non importa quindi ragazzi vi do appuntamento per il 27 marzo ora 21 far cry 5 proveremo la moneta coop e quindi ci faremo tutta la storia e proveremo anche la moneta multiplayer provando a sfidare altri giocatori quindi non mancate ragazzi ora io vi ringrazio vi do appuntamento oggi in diretta live sul canale twitch per la stem fast seconda parte ora vi saluto ciao ci becchiamo alla prossima ragazzi